Bene, buongiorno a tutti, benvenuti a questa prima giornata dell'Open Day. Il mio nome è Elda Favari, sono professoressa presso il corso di studi di farmacia, corso di studi di laurea magistrale a ciclo unico, che è incardinato presso il Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco. Qui trovate tutte le indicazioni per quanto riguarda il nostro Dipartimento. Ricordo che è uno dei corsi a ciclo unico, quindi non è 3 più 2, ma è direttamente 5 anni, in quanto per disposizione europea si consente ai laureati di circolare su tutto il territorio europeo e quindi per questo motivo abbiamo tenuto il corso di laurea appunto a ciclo unico. La sede è presso il plesso di farmacia, quindi il Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco, ma il plesso che trovate al campus è il plesso di farmacia. Se oggi poi volete potete andare a visitare direttamente le strutture presso il campus universitario. Perché scegliere farmacia e perché scegliere farmacia a Parma? Innanzitutto è una dimensione cittadina piuttosto piccola e a misura di studente. Ha una buonissima preparazione teorico e pratica per quanto riguarda tutto il percorso del farmaco. Quindi affrontiamo tutte quelle che sono le tematiche inerenti appunto allo sviluppo del farmaco. Dalla valutazione post laurea significativa, il grado di soddisfazione per quanto riguarda la laurea è di circa il 95%. C'è un'ampia richiesta al momento di farmacisti e figure professionali che abbiano una laurea in farmacia. Abbiamo riportato un tasso di occupazione intorno al 93% che potete ritrovare anche dai dati di Alma Laurea. Parmal, come vi dicevo, è una cittadina piccola, una cittadina universitaria, quindi ha dimensione di studente. L'obiettivo principale del nostro corso di laurea è prepararvi a quello che è la professione del farmacista. Quindi in particolare il farmacista è responsabile per quanto riguarda la distribuzione del farmaco e per quanto riguarda l'educazione sanitaria. Ricordo che la figura del farmacista sarà sempre di più la prima figura di riferimento a contatto con la popolazione, cioè colui che può dare anche appunto dispensare il farmaco in termini di consigli per quanto riguarda e di applicazioni per quanto riguarda l'utilizzo del farmaco. che vuole dire promozione all'aderenza alla terapia, vigilanza sull'utilizzo appropriato dei diversi medicinali prescritti, un'attenzione particolare per quanto riguarda l'automedicazione per cercare appunto di far sì che il cittadino aderisca ad una terapia anche in automedicazione consapevole e adeguata e interazione appunto, è una figura di interazione tra il cittadino e poi l'operatore sanitario. Gli sbocchi professionali quindi riguardano in particolare farmacie, parafarmacie pubbliche e private, anche la farmacie ospedaliere, strutture di sanità pubblica e settore anche dell'informazione medico-scientifica. Quindi per quanto riguarda appunto questa figura ci sono diversi tipi di decreti legge che hanno semplificato quindi l'accesso e alle varie procedure che vengono dispensate anche in farmacia. Si parla appunto delle vaccinazioni ai maggiori di 12 anni, la scelta del medico curante, la consegna di farmaci per l'assistenza domiciliare, test diagnostici, misurazione banale della pressione, gli elettrocardiogrammi, la misurazione del colesterolo, una serie di servizi che il farmacista è e sarà sempre di più portato ad offrire, a dare alla popolazione. Veniamo ai dati che maggiormente vi riguardano in quanto future matricole. L'accesso per quanto riguarda l'anno accademico 24-25 è un numero programmato locale di 179 posti, di cui 3 riservati a stanieri, tramite l'accesso tramite il TOLC-F, cioè il test online del CISIA. Le domande sono divise tra chimica, biologia, matematica, fisica e logica. Ci saranno anche delle domande di inglese che però non verranno computate ai termini della graduatoria. E come vedete la risposta corretta da un punto, la risposta sbagliata si perdono 0,25 punti, 0 punti se la risposta non viene data. L'importanza per accedere e appunto sostenere il TOLC-F è quello di iscriversi all'interno del CISIA, quindi di andare appunto a fare un'iscrizione al CISIA. Il TOLC-F può essere sostenuto nelle due modalità che vedete riportate, una a qualsiasi delle sedi aderenti al TOLC-F, quindi voi potete farlo anche in altre sedi, poi tramite la vostra iscrizione, quindi il codice fiscale che dovrete inserire, noi recupereremo i punteggi e le graduatorie, ma può essere fatto anche tramite il TOLC-CASA. Può essere ripetuto, buongiorno, può essere ripetuto una volta al mese, quindi viene considerato il più alto punteggio comunque ottenuto. Ogni volta che si sostiene una prova, a seconda delle modalità o delle sedi dove si sostiene, bisogna fare un versamento di 30 euro. Se qualcuno avesse già sostenuto il TOLC-F, noi teniamo validi tutti i TOLC-F fatti a partire dal 1 gennaio 2023. Ci sono sul sito del CISIA dove, ripeto, dovete iscrivervi i quiz per fare le prove. E le date, adesso poi magari ve le faccio vedere meglio, i punteggi ottenuti nel TOLC verranno considerati poi, quindi qualora voi riusciste a entrare nella graduatoria, immatricolarvi, chi ha delle lacune verranno poi tenute in considerazione per quanto riguarda gli OFA, cioè gli obblighi formativi aggiuntivi che dovete poi espletare per quanto riguarda appunto il primo anno durante l'anno. Le date del TOLC, una è domani, quindi la prossima è il 18 di aprile, il 9 di maggio, il 21 di maggio e il 5 di giugno. Poi se avete dei dubbi, qui abbiamo il presidente di corso di studi che quest'anno giustamente con grande dedizione sta organizzando il TOLC, quindi magari ha delle date ulteriori o più precise. Allora, io ripeto, perché poi in streaming non veniamo registrati, comunque trovate tutte le date sul sito www.csonline.it e trovate tutto quello che io vi sto dicendo adesso in modo molto riassuntivo per quanto riguarda il sito di farmazia, quindi iscriversi, le modalità di iscrizione e le scadenze, ce ne saranno appunto ulteriori date. Il concorso, 130 posti disponibili e trovate appunto tutte le varie, le graduatorie verranno pubblicate il 25 di luglio. Se poi passate, se siete interessati giù allo stand di farmacia, abbiamo preparato un flyer per darvi tutte le indicazioni di cosa dovete fare o non dovete fare qualora entrate o meno in graduatoria con tutte le possibili date e le varie intersezioni, quindi anche in funzione degli scorrimenti, perché una volta che ci sarà l'immatricolazione il 25 di luglio, a seconda dei posti che noi avremo occupato o meno, vi daremo la possibilità poi di inserire altre persone, quindi altri studenti. La graduatoria finale sarà il 10 settembre e appunto ci sarà un'ulteriore possibilità di immatricolarsi. Quindi fate sempre riferimento al sito per quanto riguarda farmacia e per quanto riguarda il TOLC al sito del CISIA. Per finire, il periodo dell'attività di lezione e l'attività didattica è divisa in due semestre, quindi da settembre a dicembre, da marzo a fine maggio. Avete a disposizione 10 appelli di esame, quindi a dicembre, 3 tra gennaio e febbraio, uno ad aprile riservato agli studenti in corso, da 3 tra giugno e luglio, scusate, uno a settembre e uno a novembre sempre riservato. L'attività didattica è obbligatoria, quindi soprattutto non solo l'attività è obbligatoria, ma ci sono alcune propedeuticità, per cui se voi non superate un esame e non potete accedere a quello per cui il primo esame ovviamente è propedeutico. Vi è un tirocinio da svolgersi al quinto anno, quindi in una farmacia sul territorio o in una farmacia ospedaliera, e vi è una tesi di laurea. In questo caso, è cambiata da poco, la tesi di laurea è una laurea abilitante, cioè voi prima della laurea, a seguito del vostro tirocinio obbligatorio, dovrete sostenere una specie di, una volta era un esame di Stato, adesso è appunto una prova con una commissione, superata questa poi potete discutere la vostra tesi di laurea. Una volta che vi siete laureate, siete già abilitati a esercitare la professione appunto del farmacista. La tesi potrà essere compilativa o sperimentale. Non passo in rassegna uno per uno tutte le materie che avrete tra il primo anno, il secondo, il terzo anno, ma vedete che sono tutte divise, tutto quello che riguarda la chimica iniziale, la fisiologia, e poi appunto tutto quello che riguarda la chimica farmaceutica, e tutto quello che riguarda il farmaco, quindi dalla formulazione alla tecnica farmaceutica e alla farmacologia, anche alla patologia e così via, divisi nei diversi anni. Comunque questo lo trovate anche nella brochure. Chiudo dicendo che ci sono una serie di servizi, tra cui appunto il CAI, centro accoglienza e inclusione, l'orientamento in itinere e il tutorato, i progetti DEA per il sostenimento degli OFA, e tutti quelli anche in ambito dell'intero Ateneo. Vi lascio, adesso se mi volete fare qualche domanda ben contenta, i nostri riferimenti, quindi i nostri indirizzi e-mail, e riporto di nuovo il sito a cui fare riferimento per tutte le possibili informazioni. Vi ringrazio.